Ciao a tutti, oggi volevo leggervi qualche pagina di un libro italiano, un libro un po' strano, Salto Mortale, di Luigi Malerba, in cui sono incappato per caso, cioè me l'hanno regalato, non conoscevo Malerba e devo dire che sono stato molto sorpreso dalla sua scrittura e dalla composizione di questo romanzo, che è un finto giallo, è la storia di questo Giuseppe, che trova in un campo un cadavere e compone il suo racconto, la sua ricostruzione, le sue in qualche modo indagini per scoprire l'assassino, è un giallo non giallo, inquietante, scritto in modo strabiliante, ve ne leggo qualche pagina. Dicono che girava nella pianura di Pavona e faceva paura alle ragazzine, ci sono questi vecchi che si divertono a fare paura alle ragazzine, si nascondono dietro un cespuglio e poi saltano fuori improvvisamente con un salto, fanno dei versi con la bocca, dei gesti, qualche volta lo fa anche il sottoscritto, quando non sa cosa fare, un po' per vizio, un po' per divertimento, forse più per divertimento che per vizio, anche per vizio però. Dicono che raccoglieva carta straccia, libri, giornali e altra carta straccia, lo avevano visto che spingeva una bicicletta con sopra un sacco pieno di cartaccia, nessuno ha guardato dentro e allora come fanno a dire che era cartaccia straccia? Come fate a dire che era cartaccia straccia? Ci poteva essere di tutto dentro a quel sacco. Lo hanno visto camminare da solo sulla spiaggia di Torvaianica di notte, così dicono, cioè così dice una donna alla moglie del macellaio di Pavona, ogni tanto si fermava e tendeva l'orecchio ad ascoltare il rumore del mare, come se dal mare gli venissero dei messaggi speciali e invece dal mare si sa che arriva soltanto il rumore delle onde, soprattutto a Torvaianica, quali messaggi possono venire dal mare di Torvaianica, non scherziamo. Camminava a piediscalzi, si fermava ad ascoltare e poi riprendeva a camminare sulla spiaggia a piediscalzi con l'orecchio teso verso questi messaggi, ma quali messaggi? E la moglie del macellaio di Pavona che cosa faceva sulla spiaggia di Torvaianica di notte? Suo marito che cosa ne dice? Bisognerebbe sentirlo il macellaio che cosa faceva sua moglie sulla spiaggia di Torvaianica di notte? Dicono che fosse un professore travestito da straccione, quei professori che vanno in giro a cercare i ruderi romani sperano sempre di trovare il Colosseo, ma spesso non trovano mai niente. Se trovano un sasso lo portano a casa e lo fanno vedere alla moglie. Il vecchio poteva essere uno di questi professori. Ma che cosa sperava di trovare nella pianura di Pavona? Va bene, ci sono degli avanzi di ville romane, roba da poco, i ricchi non venivano qui a villeggiare nella pianura. Allora toglietevi dalla testa di trovare dei tesori. Erano villette da niente, si vede benissimo dai muri che sono avanzati. Non troverete mai una colonna di marmo, se volete trovarla ce la dovete portare come Benito Mussolini a Piazza Argentina, costa caro. In generale questi professori non hanno una lira e allora andate a cercare da un'altra parte, qui perdete il vostro tempo. Poteva essere un ladro, ma di che cosa? Ci sono ladri cosiddetti di galline, ma ormai non è più conveniente con tutti questi allevamenti, i prezzi sono molto ribassati. Ci sono quelli specialisti in automobili e ce ne sono altri che dell'automobile non ne vogliono sapere e rubano solo quello che c'è dentro, macchine fotografiche, soprabiti, binocoli, grammofoni, guanti, borse di cuoio o piene o vuote. E poi ci sono quelli che rubano secondo l'occasione e sarebbero i ladri cosiddetti occasionali come gli zingari che rubano in tutte le occasioni. Però lui non era uno zingaro per piacere, a meno che non fosse uno zingaro travestito da straccione. Ma gli zingari sono tutti straccioni, non hanno bisogno di travestimenti. È successo più di una volta invece che uno va in giro vestito da straccione e poi si scopre che è un miliardario quando muore. Ci sono certi miliardari che si divertono a fare gli straccioni. In questo caso dove sono i miliardi? Dove li avrà messi? Ha fatto testamento? Oppure se non c'è testamento e non ci sono eredi, chi se li prende i miliardi? Lo Stato o il comune di Albano? Perché non li dividono un po' per uno? I miliardi fanno comodo a tutti, ha anche diviso mille e un miliardo fa sempre un milione. A chi lo date questo milione? Ci sono anche ladri molto eleganti come quelli che stanno negli alberghi di lusso e sarebbero i cosiddetti topi d'albergo, parlano tre o quattro lingue e arrivano con l'Alfa Romeo sportiva. Quel vecchio però non aveva l'Alfa Romeo sportiva e anche se l'avesse avuta non era un topo d'albergo e non ci sono alberghi da queste parti e i topi sono tutti scappati con questi veleni che hanno sparso nelle campagne. Giuseppe, amico caro, gli alberghi presto ci saranno man mano che Roma si stende verso il mare. Va bene Roma verso il mare è meglio che sta dove si trova. In ogni modo così vestito male non lo facevano nemmeno entrare, cioè non poteva rubare, infatti lo hanno trovato con le tasche vuote. E allora che razza di ladro era? Strano questo fatto delle tasche vuote per un ladro. Giuseppe, caro amico, ci sono anche ladri che non hanno mai rubato, sono i più pericolosi perché si fa fatica a riconoscerli e non sono schedati. Anche la polizia non sa come fare a metterli in prigione quando si imbatte in uno di loro, in certi casi di bastona per farli confessare. Dicono che fosse una spia, ma per conto di chi? C'è poco da spiare qui nella pianura di Pavona, ci sarebbe lo spionaggio cosiddetto industriale, ma per quello bisogna andare verso Latina, dove ci sono le fabbriche nate all'epoca del boom. Qui non c'è niente, ci sono solo gli allevamenti di galline e cioè non ci sono più neanche quelli perché sono quasi tutti falliti, per piacere. Se invece era una spia militare doveva andare all'aeroporto militare di pratica di mare, dove ci sono i reattori. Qui intorno a Pavona non ci sono segreti militari, c'è una polveriera abbandonata fra Riccia e Genzano, non interessa a nessuno, allora perché è venuto qui a fare lo spionaggio militare? La polizia ha interrogato dell'agente per trovare qualcuno che lo conosceva, la figlia del tabaccaio di Pavona dice stavo andando a spasso con la mia lambretta, ho visto un vecchio che pedalava su una bicicletta nera, faceva fatica a pedalare. La strada era in salita alle 8 di sera verso Albano, allora il vecchio scende dalla bicicletta si mette a spinger la mano, si ferma a guardare una casa in costruzione, a frugare fra certi rottami, era vestito male, non aveva gli occhiali ma sembrava che li avesse, non posso dire altro, non sono sicura che fosse lui, cioè posso sbagliarmi completamente. Per dire quello che ha detto, poteva anche tacere alla figlia del tabaccaio di Pavona, vedere un vecchio in bicicletta, tutti lo possono vedere. La gente dice l'assassino se c'è a un certo punto casca nella rete, la rete sarebbe quella della polizia, va bene la rete, ma la polizia fa troppo rumore e il pesce si spaventa, allora si mette lì che sembra imbambolata, si siede e aspetta, ce n'ha da aspettare il pesce, cioè l'assassino, il pesce è furbo, quando vede la rete scappa da un'altra parte l'assassino, fanno bene a scappare sia l'uno che l'altra, cioè siamo ancora al punto di prima.